Nome? Pierdavide. Antonio. Cognome? Carone. Maggio. Soprannome? Romeo. Maggio Man. Segno zodiacale. Cancro. Leone. Gruppo sanguigno. Io non lo ricordo. Qualcuno? Leone, non lo so. Posso morire di sanguato? Non lo so. A chi è venuta l'idea di questo tour? Ad Antonio, ovviamente. Io non volevo. Vabbè. Un aggettivo per descriverti? Non volente. Disordinato. Anche nelle idee. Un aggettivo per descrivere il tuo collega? Volente. Casalingo. Qual è il segreto per comporre una buona canzone? Il segreto per comporre una buona canzone è parlare di ciò che si sa, credo, senza andare oltre. L'input. L'input di una canzone può venire in qualsiasi momento, è fondamentale, poi si sviluppa tutto attorno. Aver partecipato ad un talent ti ha più dato o tolto? No, alla fine credo che mi abbia dato. Nel mio caso non mi ha né dato né tolto perché a Antonio Maggio è una cosa, gli era un quartet erano un'altra. Sanremo, rappresentato per te, è più un arrivo o una partenza? In questo momento potrebbe sembrare un arrivo, però in realtà siamo pronti alla ripartenza, ai posti di largo sentenza. Una partenza bellissima. Quale tua canzone ti descrive di più? La canzone che mi descrive di più? Forse è un clown che piangere. Nell'etere. Se potessi rubare un pezzo al tuo collega, invece, quale sceglieresti? Amore pop, decisamente. Nani. L'incontro più importante della tua carriera? Lucio D'Alba. Col meraviglioso Pier Davide Carone. Chi di due è più? Intonato? Ma no, ho capito. Ma non si dice, poi dopo smette di suonare un poverino, cioè nel senso, poi lui comunque fa il suo, insomma, cucina, fa un buon caffè. A tutti e due. Bravo a suonare. Bravo a suonare... Quanto siete bastardini. Non lo so, possiamo far rispondere... Lui è più bravo a mentire. Io non so, non ci riesco. Lui? Abile a scrivere canzoni. No, quello ognuno a suo modo siamo, secondo me ci equivaliamo. Beh, ho detto lui prima, io. Capace a cucinare. Quello io, quello proprio senza ombra di dubbi. Infatti lui viene a casa a farsi cucinare da me. Lui, 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 lui cucina. Dormiglione. Lui. Io, 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 io. Romantico. Romantico? Forse lui più di me, ma in questa fase, cioè lui è molto romantico, anche malinconico. Io sono un po' più raziocinante, cinico. Paromantici tutti e due. Lui un po' più sognatore e un po' più pratico. Ignolo? Ignolo che mi sa che io cago veramente le... Lui. Simpatico? Simpatico? No, lì anche siamo complementari nella simpatia, più che altro nella stupidità, più che simpatia. Diciamo la verità. Io? Se non fossi cantante, saresti? Allora, diciamo, quando non ero ancora cantante, diciamo, che poteva campare di musica, facevo il casellante in autostrada, quindi non lo so, magari sarei diventato un esattore autostradale a tempo indeterminato. Campione del mondo di poker? Look alla moda o così come capita? Così come capita. Così come capita. Mare o montagna? Mare, ma perché era più vicino in più, in comodità. Montagna, da Salentino a montagna. Sushi o orecchiette alle cime di rapa? Ecco, qui deluderò tutti i miei avi. Sto per dire una cosa... Questa spero che non... No, dico ai miei parenti di non guardarla, però preferisco... Sushi! Tutto, prima una e poi l'altra. La persona che ti ha avvicinato alla musica? Mio padre, mia madre. I miei genitori è un festival in una chiesa, in una parrocchia. Cantavo la mia storia tra le dita, c'erano qua i grignani, otto anni. L'artista che è stalkerizzato di più da quando eri giovani? In realtà io avrei voluto stalkerizzare Paul McCartney, ma non mi mandavano, i miei genitori erano troppo lontano, lo stretto della manica superato. Stalkerizzato nessuno, diciamo che mi sono autostalkerizzato ascoltando Lucio D'Ali. Dimmi una cosa che non hai mai detto in pubblico. Una cosa che non ho mai detto in pubblico... Tutti mi chiedono qual è la tua canzone preferita e ce ne sono diverse a cui sono affezionato. Adesso vi darò questo scoop, c'è una canzone che proprio detesto, delle mie, è un po' ripudiato. Però poi la faccio dal mio perché piace alle persone. Mi piace ma non troppo, quella proprio non mi va. Un tatuaggio nascosto, nelle zone intime. La cosa più bella che porterai con te di questa avventura musicale in coppia? Mi porterò il fatto che... Era la prima volta che facevo un tour con un altro artista perché ho fatto sempre tour da solo. O meglio, c'era un tour in cui c'erano anche altri artisti, ma un tour insieme dove ci si esibisce insieme sempre, non l'avevo mai fatto e sono veramente felice di averlo fatto, di aver iniziato con Antonio perché è un artista straordinario, ha un grande talento e mi sembra un privilegio poter suonare le sue canzoni. La condivisione. La condivisione e il confronto tra due mondi, il mio e quello di Pier Davide, lontani ma vicini molto. Canta la sigla del tuo cartone animato preferito? Quello, diciamo, sono autoreferenziale se canto quello dove ho cantato io. Polero sulle ali del mondo... Però quella perché me la ricordo, non perché sono, diciamo, egoriferito. Sono i cavalieri dell'onzo di acqua, hanno nomi importanti, sono grandi forti eroi. Pier Davide Carone e Antonio Maggio. Le vostre strade artistiche si rincroceranno? Ma intanto vediamo di far durare questo, di darci del tour quanto più possibile adesso. Poi vedremo, secondo me sì, secondo me quando c'è empatia le cose si potranno così. Io credo che non si divideranno più che si rincroceranno. Grazie. 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 Grazie.